E' arrivata al porto d'Ischia la barca di Babbo Natale che accoglierà, è già accolto oggi pomeriggio, tutti i bambini che in questa maniera possono sognare veramente un Natale, insomma, come nelle favole. Ne parliamo con il primo cittadino d'Ischia, Enzo Ferrandino, una bella iniziativa che si scrive nel cartellone di Natale. Sì, questa è una delle tante iniziative del nostro cartellone natalizio. E' un'iniziativa a tema con l'Ischia marinara. Noi abbiamo immaginato un Babbo Natale che viene dal mare con le renne di mare su una barca. In modo tale, la barca che è la più antica dell'isola, ringraziamo il proprietario del signor Ferrandino per avercela messa a disposizione per questo bel avvenimento. E prima c'è stato lo stupore dei tanti bambini a riprova che il Natale è veramente la festa dei più piccini, che hanno potuto incontrare in prima persona Babbo Natale e hanno potuto lasciare le loro letterine per avere i doni la notte del 24 di dicembre, se saranno stati buoni però. Ecco, allora sentiamo un po' Babbo Natale. Che ci dice di questa bella barca, la più antica dell'isola, diceva lei? Esatto, è la più antica dell'isola, cioè l'unica che è rimasta, questa qui era un traghetto una volta, c'era una nave, la nave passaggiera a due motori ed è stata varata nel 1924 a Spiano di Sorrento. Come si chiama? È la rondine, questa qui è la rondine e noi l'abbiamo prelevata esattamente nell'anno 69 e l'abbiamo ristrutturata in questo modo qua. È un Babbo Natale marinaro quindi? Questo è un Babbo Natale che viene dal mare, non dalla neve ma dal mare. Vogliamo fare gli auguri a tutti i bimbi? A tanti tanti auguri a tutti i bimbi del mondo!